Ciao a tutti e ben ritrovati, vedete davanti a voi leggiamo il testo del problema 14.20 abbiamo fatto nel precedente video il 14.19 del testo dei autori Mazzoldi di Glovoci lo vedete in grafica, testo molto bello, vi invito a comprarlo, veramente vi invito a compratelo preparate l'esame di fisica in maniera veramente fatto molto bene quest'ultima edizione a cura dei docenti, il professor Michelotti che me lo ha inviato, lo ringrazio ancora una volta il professor Razzeni, leggiamo il testo davanti, dice una mole di gas ideale monoatomico descrive il ciclo riportato in figura, poi ve lo faccio rivedere, l'avete intravista all'inizio c'è scritto sia PA uguale PB uguale 1 bar, PC è pari a 0,2 bar, V con A è pari a 10 alla meno 2 metri cubi, V con B è pari a 3 per 10 alla meno 2 metri cubi e V con C è pari a 4 per 10 alla meno 2 metri cubi, ci chiedono di calcolare il lavoro compiuto dal gas nel ciclo e il rendimento del ciclo. Allora ritorniamo a questa figura, i contorni sono in azzurrino e l'area interna è in giallo, in giallino nel testo dell'autore Mazzotti di Ringrovoci in questa edizione è quello che vedete nel testo, quindi questo è quello che esattamente c'è rappresentato nel testo, vedete che ci sono i volumi VA, minore di VB, minore di VC proiettati e poi le pressioni, ovviamente AB si vede subito essere unisopara, quindi PA e PB sono le stesse, pressione maggiore rispetto a PC che è la pressione più in basso come al solito scriverei i soliti dati del problema, che sono tutti abbastanza, sono parecchi comincerei con dire che N è una mole, dato abbastanza palese, evidente poi scriverei il dato numero 2 secondo cui gamma è 5 terzi, perché ci parlano di gas il testo ci parla di gas ideale monoatomico, gamma 5 terzi, dato numero 3 il calore murale specifico è 3 mezzi R e 5 mezzi R sarà CP evidentemente, noi ci prendiamo sempre tutti i dati, poi può dare sì che dovremmo utilizzarli tutti quanti, dato numero 5, ripeto AB è unisopara si vede chiaramente e quindi PA è uguale a PB, chiaramente ci dicono che PA però è uguale a PB è uguale a un bar poi vediamo come magari fare un po' di conversioni, dato numero 6 la pressione allo stato C che ci dicono essere 0,2 bar e poi dato 7 mi scriverei il volume allo stato A e ci dicono che è proprio un 0,01, quindi 10 alla meno 2 metri cubi dato 8 ci danno altri due volumi, il volume allo stato B che ci dicono essere 3 per 10 alla meno 2 metri cubi cioè anche 0,03 se volete e poi il dato numero 9, il volume allo stato C che invece è 0,04, quindi 4 per 10 alla meno 2 metri al cubo tracerei una linea, a questo punto inizierei con la risoluzione di questo interessantissimo problema allora, interessante questo problema perché ci chiedono il lavoro compiuto dal gas ovviamente nel ciclo e il rendimento del ciclo qual è il problema qui? che chiaramente non è un ciclo sì, c'è AB che è un isobana reversibile le altre due trasformazioni sono i lati di un triangolo perché ABC è un triangolo e quindi se io voglio calcolare quando si vuole calcolare il lavoro svolto dal gas durante l'intero ciclo possiamo ricorrere alla definizione cosa significa? cioè lavoro come area compresa fra la curva e l'asse delle ascisse in questo caso l'asse dei volumi allora, attenzione, ricordatevi questo che vi dico se si tratta, come effettivamente in questo caso è di un ciclo reversibile, e lo è il lavoro sarà dato, sempre, dall'area racchiusa dal ciclo o dal momento che il ciclo è percorso nel verso anti-orario noi siamo certi che tra il lavoro sarà sempre positivo quindi basterà calcolare l'area del triangolo ABC quindi il triangolo ABC ha base AB e altezza AH AB è la differenza tra i volumi V vedete, VB meno VA e l'altezza AH sarà la differenza tra le pressioni PB meno PC quindi, se io voglio calcolare se io volessi calcolare il lavoro L è base AB per l'altezza AH diviso 2 cioè ancora uguale a un mezzo allora, AB è VB meno VA e ripeto, PB meno PC è l'altezza e su questo non ci piove il problema, per moltissimi probabilmente è il calcolo del valore io il lavoro, ovviamente, come il calore lo voglio esprimere in Joule tuttavia, ci danno valori di volumi in metri cubi e valori di pressioni in bar allora, qui devo scrivere un mezzo dunque, VB è evidentemente è 3 per 10 alla meno 2 metri cubi devo fare 3 meno 1 quindi verrà un 2 per 10 alla meno 2 metri cubi qua, evidentemente, 2 e 2 se ne possono andare e lì bisogna fare, evidentemente, PB che è chiaramente, come PA, un bar meno PC che è 0,2 bar quindi un 0,8 bar e FI qui non ci piove ma come faccio io a sapere come passare a direttamente al valore che mi dà il metri di misura in Joule allora, lasciamo un attimo uno spazio bianco e facciamo un attimo una parentesi dunque io vi ricordo che un'atmosfera perché la pressione solitamente ci viene assiata in atmosfere equivale a 1,013 bar da cui un bar sarà 1 diviso 1,013 cioè sarà un circa 0,987 atmosfere questo va detto se volessimo se volessimo l'atmosfere quindi nel nostro caso 0,8 bar è 0,8 per 0,913 quindi circa 0,79 atmosfere poi un metro cubo ma questo lo sappiamo tutti sicuramente è un 1010 alla 3 litri e quindi 10 alla meno 2 moltiplicando per 10 alla meno 2 entrambi i membri 10 alla meno 2 metri cubi sarà 10 alla meno 2 per 10 alla 3 litri quindi sarà 10 litri e qui vi ricordo inoltre che un litro per atmosfere sono circa 101,3 Joule e quindi siccome abbiamo qui sopra 10 alla meno 2 metri cubi quindi qui avremo un uguale 10 alla meno 2 metri cubi che è 10 litri per 0,8 bar che è 0,987 atmosfere e siccome litri per atmosfere 1 litro per atmosfere sono 101,3 Joule questo allora possiamo dire che 10 litri per 0, questo non è questo è 79 però 0,79 no qua ho sbagliato 0,79 atmosfere atmosfere quindi 7,9 sarebbe basta fare 7,9 per 101 101,3 che se riesco magari a scrivere eccolo qua 101,3 Joule e quindi di conseguenza circa fate conto 800,27 Joule questa era importante perché magari poteva essere questo il problema ora calcolato il lavoro compiuto dal gas durante l'intero ciclo e l'abbiamo fatto ed è 800,27 Joule calcoliamo i lavori scambiati durante l'intero ciclo cominciamo calcolare lungo la trasformazione a B che è molto facile perché è una isopara reversibile e sappiamo essere NCP evidentemente delta T questa è facile perché N ci dicono essere una mole ci dicono essere gas monatomico ideale quindi CP abbiamo scritto nei dati è 5,5 R e delta T evidentemente è la temperatura di B meno la temperatura di A tutto molto semplice chiaramente non abbiamo le temperature però sappiamo che il gas è un gas perfetto quindi PV uguale a NRT ma in questo caso PV uguale RT perché N è una mole da cui possiamo dividendo per R da una parte all'altra ricavare la temperatura che è PV fratto R cose assolutamente ormai che sapete fare ammela dito benissimo e quindi chi sarà TB questa differenza TB meno TA sarà TB sarà PB VB fratto R meno TA che sarà PA VA fratto R ma noi sappiamo che PA è uguale a PB perché AB è evidentemente un'isobara e un'isobara vuol dire che la pressione allo sto A è uguale alla pressione allo sto B la pressione rimane costante e se PA è uguale a PB evidentemente avremo che questa differenza TB meno TA e se PB e PA sono gli stessi chiamiamoli entrambi PA e raccogliamo PA a fattore comune e anche uno su R otteniamo PA che moltiplica la differenza VB meno VA tutto fratto R evidentemente pertanto Q di AB il calore lungo l'isobara la differenza B sarà una mole che moltiplica 5 mezzi R CP PA VB meno VA tutto fratto R R ed R se ne vanno e quindi otteniamo che 5 mezzi 2,5 otteniamo quindi che Q di AB sarà 5 mezzi PA VB meno VA ma questa è ancora uguale 2,5 PA PA ripeto ce lo danno un bar ma possiamo scriverlo come 0,987 atmosfere e VB meno VA è 1 in generale VB se guardiamo i dati dai dati del problema VB è 3 per 10 alla meno 2 3-1 2 quindi di nuovo 2 per 10 alla meno 2 per 10 alla 3 litri e quindi in definitiva otteniamo 1 2 2 4 675 per 20 litri per 101 3 J ovvero circa un 4999 1 J cioè circa 5 Kilo J è un calore assorbito questo è il calore scambiato lungo la trasformazione di sopra reversibile AB ora c'è il calore lungo la trasformazione BC che non possiamo denominare cosa possiamo fare? beh dunque in generale in valori allora noi sappiamo che per il primo principio della termodinamica DQ è DU più DL ora questo cosa significa? che allora il calore lungo la trasformazione BC sarà pari alla variazione di energia interna lungo la trasformazione BC più evidentemente il lavoro compiuto lungo la trasformazione BC ma questo è ancora uguale a dunque DELTA U di BC sarà per definizione sarà N CV TC meno TB e il lavoro lungo BC sarà un mezzo attenzione adesso sicuramente VC meno VB per PB più PC allora stiamo parlando del lavoro lungo la trasformazione BC perché però è così dunque il lavoro lungo BC l'avete visto come l'ho calcolato lo possiamo calcolare come l'area del trapezio quadrato e compreso tra la trasformazione BC e l'asse dei volumi no? evidente quindi questo noi possiamo fare possiamo sfruttare anche questo discorso che sarà quindi un mezzo no? PB più BC per VC meno VB evidentemente no? aspetta l'area del trapezio compreso tra BC e l'asse della scissa l'asse dei volumi fatto adesso questo allora questo lo possiamo ancora scrivere come? allora questo è ancora uguale a dunque N è una mole CV è tre mezzi R di nuovo potremmo scrivere per la questione di stato di gas perfetti T con C che è PC VC fratto R meno T con B che è PB VB fratto R più sempre uguale un mezzo VC meno VB per PB più PC ma questo è ancora uguale allora se in questa parentesi raccogliamo R e R se ne vanno quindi qui otteniamo come nel caso precedente per la verità tre mezzi che moltiplica P con C V con C meno P con B V con B più un mezzo VC meno VB per PB più PC se adesso ripetiamo le stesse considerazioni in termini di unità misura fatte prima cioè che un'atmosfera sono 1,013 bar che un bar sono 0,987 atmosfere e quindi che un metro cubo sono 10 a 3 litri quindi 10 a meno 2 metri cubi sono 10 litri e che un litro per un'atmosfera per un litro per un'atmosfera sono 101,3 joule ripetendo il suo discorso otteniamo un valore negativo di calore infatti parliamo di calore ceduto ovvero meno 2,7 chilo joule allora evidentemente noi non c'è bisogno che adesso calcoliamo l'ultimo il calore Q di C A perché noi sappiamo che in generale il lavoro totale svolto che tra l'altro abbiamo calcolato all'inizio facilmente è la somma dei tre calori Q di AB più Q di BC più Q di CA e pertanto così in questo modo visto che conosciamo l'espressione del lavoro compiuto totale possiamo anche ricavare Q di CA che sarà L evidentemente meno la somma di Q di AB più Q di BC che è ovviamente un calore ripeto negativo e se fate questo conto Q di CA anche lui è negativo viene circa un meno 1,5 KJ anche lui è un calore ceduto e in definitiva quindi il rendimento che è sempre L diviso evidentemente il calore assorbito che in questo caso è Q di AB se fate questo conto ottenete circa 0,16 abbiamo risolto facilmente non era difficile ma era molto interessante anche il problema 14.20 del testo degli autori mazzondi negro voci ciao a tutti